Nel cuore della Valle del Lirno nasce un punto delle eccellenze, si parte dalla mozzarella biologica ma non solo. Esatto, esatto. In questo periodo diciamo per forza di cose sì, dobbiamo partire solo con latticini, derivati del latte biologico, con un po' così di dolci sempre a base dello stesso, e il yogurt. Ma appena sarà possibile promettiamo di integrare con una gamma completa a base di prodotti biologici, tutti quanti rigorosamente fatti a vista. E' un atto di coraggio oggi abitare un'attività imprenditoriale, no? Sì, sì. Quando abbiamo posto la prima pietra era ancora ben lungi dal poter immaginare una situazione del genere, però alla fine, nonostante tutto, siamo riusciti, dai, siamo qui, quindi bene così. E' un posto che mette insieme anche un po' di storia, no? L'ingresso con l'acquedotto medievale rappresenta anche un ritorno alle origini. Quindi biologia vuol dire anche un ritorno alle origini della produzione dei prodotti tipici locali? Assolutamente sì, perché in un mondo invece che va verso la centralizzazione anche dei prodotti agroalimentari, noi vogliamo decentralizzare e valorizzare sempre il locale, più di ogni altra cosa. Diciamo che all'interno si parte con la mozzarella, ma si può trovare di tutto. Beh, di tutto, sempre la nostra offerta... Col marchio, insomma, dei prodotti tipici locali. Sì, 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 vabbè, siamo anche produttori di vino, vini sempre che rispecchiano fortemente il territorio, che quindi andranno poi ad integrare l'offerta completa di latticini e degustazioni quando saremo pronti, quando potremo, ecco, accogliere. Grazie a tutti!